Un grande successo, è bastata quella zampata dopo due minuti, definiamola così, una grande giocata personale e poi avete sofferto da grandi squadre. Sì, rispetto a volte sono più contento per il passaggio del turno per il gol perché ci voleva, da capitano voglio ringraziare i tifosi che sono rientrati oggi dopo tanto tempo e hanno avuto la promessa di sostenerci dal primo minuto fino al 95esimo. Così bisogna fare, bisogna soffrire tutti insieme e uscire da questo momento uniti tutti. Cosa è mancato negli ultimi tempi? Stasera una squadra trasformata, perché? No, più che trasformata penso che abbiamo capito che gli errori che stiamo commettendo ci siamo parati tra di noi e da ragazzi maturi che siamo, stiamo cercando di venire fuori. Questa partita di stasera deve essere un inizio ma non una fine perché il campionato è lungo e possiamo ancora toglierci tante soddisfazioni. Ringrazio Insegne, linea Alberto Di Venti.